Ragazzi, chi guida dei due, queste sono per te. Voi due, cosa vi lega? Vai, silenzio. Un quiz che si snoda sulla strada. Un gatto e mezzo. Cinque domande. Mangia un topo e mezzo. Incorroci, rotatori, bimbi. Quanti gatti servono? Ma la strada vincente. Per mangiare 60 topi è solo una. In 30 minuti. Quella giusta. Matalena Corbatta. Filippo Nardi. NCC. Navigazione con conduttore. Sabato alle 13.40. su Italia 1.